Ciao a tutti, dopo tanti video sui vantaggi di vivere in Francia, perché io effettivamente amo questo paese in cui vivo da tanti anni e ho voglia di invogliare le persone a scoprirlo, oggi voglio fare un video un po' diverso e parlare dei punti che possono creare delle difficoltà a chi pensa di venirci a vivere e soprattutto a chi magari si è fatto un'immagine troppo idilliaca o semplificata della vita in Francia. Ovviamente non sono nemmeno degli svantaggi questi, ma dei punti a cui secondo me vale la pena di fare, per questo ho chiamato il video non venire in Francia se, titolo un po' estremo perché ovviamente potete venire quando volete, però appunto ci sono alcune cose secondo me che vale la pena tenere in considerazione prima di un trasferimento in Francia e adesso le vediamo tutte. Primo punto, non venire in Francia se odi la burocrazia. Secondo me la burocrazia francese è più efficiente di quella italiana, questo è certo, almeno nella mia esperienza, però non è né rapida né di comprensione immediata, soprattutto per chi è appena arrivato. Va anche detto che appena si è arrivati è un po' come se si ricostruisse la propria vita dalla A alla Z, quindi bisogna fare tutta una serie di step amministrativi che possono risultare pesanti, poi via via nel tempo queste cose da fare vanno a diminuire, questo è logico in qualunque paese in cui si vada. Però in Francia io devo dire che questa mancata velocità, ad esempio la riscontro, l'ho riscontrata quando mi chiedevano dei documenti, gli stessi documenti, più e più volte magari per una stessa procedura, per uno stesso famoso dossier, magari avevo già mandato un documento, me lo richiedevano una seconda e una terza volta. Oppure, anche questo fa molto ridere, quando rivolgendosi magari a due impiegati che si occupano della stessa procedura, dello stesso tipo di dossier ancora una volta, ci vengono detti documenti diversi da fornire, ci viene detto, ci vengono date informazioni diverse a seconda. Ma ribadisco che se si ha la pazienza di seguire gli step e le procedure così come vengono spiegate, anche inviando gli stessi documenti tre o quattro volte se ci viene richiesto, poi alla fine otteniamo quello che ci spetta, se ovviamente ci spezza. Secondo punto, non venire in Francia se non hai intenzione di imparare almeno un po' di francese, a differenza di paesi in cui l'inglese è molto parlato, gli expats se la possono cavare anche nel medio e lungo periodo, anche solo parlando inglese e non imparando mai la lingua del posto, penso a paesi nordici, Norvegia, Svezia, ma anche l'Olanda, anche il Belgio. Ho visto un video qualche giorno fa di Ilaria, ciao Ilaria, stai guardando, dal Belgio, che fa vedere un sito dell'amministrazione belga proprio sui sussidi, gli aiuti per le famiglie, che è anche in inglese, disponibile anche in inglese questo sito, questo mi ha stupita positivamente. Ecco, a differenza di questi paesi in cui l'inglese è molto usato da tutti, in Francia possiamo dire che il francese comune, l'abitante medio, anche l'impiegato pubblico medio, non parla benissimo inglese, non è propenso anche, perché c'è un discorso di conoscenza, di volontà e di voglia di parlare un'altra lingua, di farsi capire da uno straniero. I francesi non sono particolarmente propensi a questo, sono molto fieri della loro lingua francese, per quanto io non abbia mai capito che cosa significhi essere fieri di una lingua o di essere nati in un determinato paese, perché alla fine è solo un caso, cioè che tu sei nato lì o che parli una certa lingua, no? Però sono molto fieri di questa lingua e quindi non è molto, secondo me, nella loro abitudine media, sempre con le dovute eccezioni, fare sforzi per farsi comprendere dagli stranieri. Quindi, ecco, se si pensa di andare a vivere in Francia senza parlare francese, si va incontro sicuramente a medio-lungo termine, ovviamente all'inizio si può non saperlo e impararlo, ma a medio-lungo termine, secondo me, si va incontro a delle, non a delle difficoltà, ma a dei punti, sì, di frizione e a dei rallentamenti. Ad esempio, anche il lavoro, sì, esistono dei lavori fattibili in inglese e in Francia, però la maggior parte degli impieghi richiede il francese come elemento abbastanza essenziale, una conoscenza, diciamo, almeno basica, almeno capire e farsi capire, diciamo. A lungo termine, poi, io penso che in qualunque paese apprendere la lingua del posto sia la base per integrarsi e per godere della vita in quel paese, quindi questo vale un po' ovunque. Terzo punto, non venire in Francia se sei razzista e se non apprezzi i contesti multiculturali. In questi mesi, da quando ho aperto il canale, mi è capitato di ricevere commenti del tipo non verrei mai a vivere in Francia perché lì ci sono troppi africani e sembra di essere in Africa. A parte che non capisco il senso di mettere un commento del genere sotto video che spiegano come trasferirsi in Francia se il tema non interessa. Però, a parte questo, in ogni caso, io penso che chi ha questo tipo di visione e si ritiene migliore perché ha la pelle bianca o perché è nato in Europa, anziché in Africa, ad esempio, non potrà mai trovarsi bene in Francia. La società francese, infatti, è una società che è multiculturale da decenni dove ci sono immigrati di seconda e di terza generazione che ormai sono a tutti gli effetti dei francesi. Quindi, se pensate di venire in Francia e di ritenervi migliori, se pensate di avere dei diritti in più rispetto a queste persone, appunto, perché voi siete bianchi o perché siete nati in Europa e siete europei, siete un po' fuori strada, vi sbagliate di grosso, perché in effetti gli ultimi arrivati agli stranieri in quel momento vi assicuro che sarete voi e non loro. Quarto punto, non venire in Francia se cerchi una fotocopia esatta dell'Italia. Ho detto più volte nei miei video che ci sono delle somiglianze tra Francia e Italia, ad esempio, nell'amore per il cibo, per la gastronomia, per il vino, anche una somiglianza tra le due lingue, questo è importante per l'integrazione, però la Francia non è una fotocopia dell'Italia, non sarà mai una fotocopia dell'Italia. Questo per quanto riguarda, ad esempio, il cibo e il modo di mangiare, ad esempio il fatto che i francesi mangino la pasta scotta come contorno o che mangino l'insalata come andré, quindi come una sorta di antipasto o primo, non saprei come definirlo. Le cose che puoi trovare al supermercato sono a volte diverse, magari i tipici biscotti nei sacchettoni, come quelli del mulino bianco per intenderci, in Francia non li si trova per la colazione, si trovano altri tipi di biscotti. Quelli per la colazione all'italiana non esistono, nella maggior parte dei casi. Penso all'assenza del famoso bidet, di cui si parla sempre, ma anche a seconda della regione italiana da cui venite, penso anche al clima. Sinceramente io vengo dal nord Italia, vivo a Leone, non ho trovato una grossa differenza, ma in media la Francia, a parte la costa, soprattutto quella a sud, e diciamo la parte sud, ecco, che è soleggiata, chiaramente, per il resto è un po' sul grigetto, grigio andante, più ovosino andante, freddo andante. Quindi se magari uno viene dalla Puglia, dalla Sicilia, da posti magnifici, con il sole e con questo clima mite, secco, perfetto, forse anche l'aspetto climatico è da tenere in considerazione come cosa molto diversa in Francia. Non venire in Francia se pensi di vivere di sussidi. Il welfare francese funziona molto bene, è organizzato e dà sostegno sia nei periodi più complicati della vita, lo abbiamo visto anche in questo periodo di Covid, effettivamente, e dà grandi aiuti anche alle famiglie, ma da lì a pensare di vivere magari senza lavorare o di andare avanti anni solo lavoricchiando e vivendo di aiuti, ce ne passa. Altro punto che non mi stanco mai di ripetere, penso di averlo detto anche in altri video, ma questo è in risposta soprattutto a domande che ricevo, gli aiuti ci sono e sono in molti ad averne diritto, ma attenzione perché non c'è una pioggia di aiuti che arriva, che si scatena appena mettiamo un piede in Francia, cioè una volta che si è stati diversi mesi in Francia e si è svolta un'attività, che può essere lavorativa ma può essere anche la vita da studente, considerata ad esempio un'attività o uno stage, a quel punto si possono presentare una serie di documenti e creare i famosi dossier per poi ricevere, se si ha diritto, degli aiuti. Quindi attenzione anche a questo punto a non farsi delle speranze forse troppo idilliache e a pensare a un qualcosa di troppo semplice. È tutto per questo video, se il video ti è piaciuto e ti è stato utile ti consiglio di iscriverti al canale e di attivare la campanella per vedere i nuovi contenuti che di solito pubblico una volta a settimana sulla vita in Francia, sulla ricerca di lavoro, di casa e su tutte le cose da fare per stabilirsi in questo paese. Ciao ciao!